Comunque, la nostra galassia è para para a quello che vedi in Valerian di Lupo e Son, a quello che vedi nella saga di Star Wars a tutti i livelli. C'è molto che ha a che fare con i cosiddetti CTR, quindi con le razze sintetiche, chiamiamole così, o come la chiamerebbero nel caso di Star Trek, i Borg, per esempio, oppure è ancora quindi i Siloni di Battlestar Galactica, quindi queste razze qui, e Valerian, Star Wars, Star Trek e Battlestar Galactica, secondo me, sono il quartetto che ha dato origine a molte serie e a molti appendici che sono, secondo me, tra i più significativi.